buongiorno a tutti grandi novità in arrivo nel bazar di sm cioè di sara e di maria adesso vi faccio vedere gli ultimi lavoretti collane fatte naturalmente tutte a mano con tanta pazienza tanto amore braccialettini guardate che meraviglia le foglie guardate arancioni un po di tutti i colori e qua ci sono gli orecchini particolarità questi sono fatti con i bottoni ne troverete poi diversi sul sulla pagina e sul gruppo per chi fosse interessato all'acquisto basta solo contattare il bazar di sm su facebook poi ci saranno ai lavorazioni altri siti altre pagine su instagram e su altri social network faremo poi anche anzi si farà poi anche un video dettagliato di ogni oggetto comunque foto e se il caso si faranno anche dei video sulle lavorazioni così vedete come vengono fatti vedete guardate bottoni vi augurano il bazar di s di ms di stare di maria vi augurano una buona giornata ea presto ciao 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti